Siamo con James Enese, buonasera James. Ciao, ciao. Allora, primo maggio 2015 stai per andare a suonare, che canzone suoni? Ma facciamo una parte di Napoli Centrale di 40 anni fa, no? Ai tempi di Pino? Ma ai tempi di Pino, senz'altro sì, ma diciamo che non lo suonano. Ma questi facevano parte di una banda storica nostra, no? E' Tullio d'Episcopo, no? Anche. Com'è la vita senza Pino? Non è la stessa? Beh, è molto difficile dirti questo sentimento, come la vita... bisogna continuare, capito? Bisogna... La vita va avanti. Ognuno se la porta nel cuore, no? Io credo che ogni volta che tu prendi il sax in mano Pino è con te, senti, lo senti. Ma Pino è sempre con me, è stato sempre con me, capito? Ti ringraziamo. Grazie a voi. Un messaggio, che puoi dire? Un messaggio per questo 2019? Il messaggio è quello lì di... abbiate più forza in questo potere che non c'è sulla nostra città, no? Sui nostri valori. Cioè cercate di essere più forti e ribellatevi un pochettino a tutto, no? Grazie.